Un vero eroe oggi dedica del tempo per se stesso. Ebbene sì, sembrerebbe contraddittore ed egoistico, soprattutto in questo periodo in cui i bisogni e le disuguaglianze si sono amplificati. Un eroe dedicato al bene non può riposare e invece no, dedicarsi tempo è fondamentale. Gesù lo ha fatto recandosi nel deserto per riposare, per meditare sul proprio operato e per riconciliarsi con il senso profondo che lo ha inviato e che lo muove, ovvero l'amore per il padre e la salvezza per i suoi figli. La grandezza di un vero eroe che si ispira a Gesù ha proprio queste caratteristiche. La lucidità di fermarsi quando è necessario, fare un viaggio coraggioso nella geografia della propria anima che sicuramente è ricca di paesaggi belli ma anche di tunnel da attraversare e discernere dove è orientato il cuore. Dove sta conducendo il navigatore della mia vita attraverso la quotidiana frenesia che affola lo smartphone nell'agenda degli impegni. Verso Dio? Verso gli altri? Oppure verso il mio io? Essere un eroe oggi è un'impresa grande ed è per tutta la vita. Non ti puoi mica lanciare in questa avventura senza riflettere seriamente su di te. Stacca la spina quando puoi. Sfrutta questo tempo di quaresima per ritrovarti con il Signore. Ne uscirai sicuramente rigenerato.